Ciao ragazzi! Ciao! Siamo all'interno del Dubai Mall, che è uno dei centri commerciali di Dubai al cui interno c'è appunto anche un acquario pensavo di fare un semplice giro al centro commerciale oggi e invece ci siamo ritrovati a fare delle esperienze pazzesche Ho noto una cosa, quella barca è una corda che sembra che sta tenendo una gabbia È vero! Sembra che sta tenendo la gabbia dove noi ora entreremo Ma non ci saranno solo pesci, ci sono anche altri animali Sì! Praticamente è uno zoo all'interno del centro commerciale Sì, e poi ci saranno anche squalie Andiamo a vedere subito! Eccoci! Wow! Io ho paura eh! Oh, attenti che qui è buio! Ma cosa sono? Non lo so! Ma sono dei pesci erba, vivono infilati nella sabbia Ok ragazzi, presto! Dobbiamo guidare il sottomarino! Alissa, sei tu ai comandi! Eccola! C'è una tartaruga, la dobbiamo trovare! Sì, aspetta! Vai! Ok! Accendi tutte le leve! Ecco! Trovata! Sì! Bravissimi! Ok, siamo pronti per il giro in barca credo! Sì! Ci hanno fatto mettere anche il salvagente! Andremo in barca in mezzo agli squali! Alissa! Tu che hai paura degli squali? Dove sei voluta venire? Vabbè, le mante non fanno niente! Prima abbiamo visto passare una manta gigantesca! Se la rivediamo la rifilmiamo! Adesso è andata di là! Qui intanto continuano a passare squali e noi stiamo aspettando l'arrivo della nostra barca! Guarda, guarda la pinna! La pinna fuori! Tipico! Tipico squalo! Quello dorme lì! Andremo una barchetta come quella! Sono arrivati quindi adesso tocca a noi! Wow! Possiamo vedere sotto di noi! Dov'è quella gigante? Guarda, guarda quella roba! Cos'è? Cos'è quello? Cos'è? È uno squalo fatto... Martello? No, non è martello! Martello? È una manta... Ecco la testa triangolo! Uno squalo punta! Mamma mia! Uno squalo spada! C'è uno squalo! Guarda! Guarda, ma lì c'è della gente che si immerge! Sì! Io non lo voglio! Alissa già dice che non lo vuole fare! Arriva lo squalo vicino a noi! Guarda che bello! Ma qual è? C'è una una qui sotto! Mamma mia! Sembra quel gioco che abbiamo fatto con la realtà virtuale! Sì! E non finiva bene! Si vede la gente che passa nel tunnel che vede quello che noi vediamo da qui su! I piragna! Guarda, stanno dando da mangiare i piragna! Attenta! Oh, ma a te non ti sembra di precipitare? Attenta, Alissa! Ci attaccano! Eccola! Guarda che grande! Penso se ora si comincia a crepare il vetro! Cosa è qui sotto? Qui sotto ci sono 10 milioni di litri d'acqua! Ciao! Diretto finito! È stato bellissimo! E ora non è ancora finita! Eccolo il sub! Vi è piaciuto? Sì! È stato bellissimo! Bellissimo! E non è ancora finita! Ci sono altre cose da vedere! Andiamo, andiamo! Adesso lo zoo sott'acqua! Siamo nella giungla, ragazzi! Hanno bisogno dell'apparecchio! Eccola la lontra! Questa ce l'hai su Adopt Me, Alissa! Ma quanto sono belli! Ciao! Guarda come si fa il bagnetto! Glash! Quante cittina! Ma qua ci sono le rane! Mamma, voglio una lontra! Guardale come giocano! Stanno giocando! Stanno giocando tutte e tre! Sì! Sono troppo carini! Tutte e quattro! Bellissime! E qua cosa c'è? Le rane! Una qui, una lì, una lì... E qua invece? Oh, i ratti giganti! Praticamente le nutrie! Che bella! Queste ce le abbiamo anche a Rovigo però, eh! Altri pesci molto simpatici! Pesci gatto di vetro! Mai sentiti nominare, però molto belli! E' un pesce gatto serio! Molto più grosso degli altri! E' il pesce via! Allora, i pesci cani sono i pesci chiro! E i pesci gatto sono i pesci via! Altri pesciolini piccolini! Ragazzi, il covo dei pinguini! Andiamo a vedere i baby shark! Uova di squalo che devono schiudersi! E qui sono dei piccolini appena nati! Eccoli, sono pronti! Vai! Uohoh! E questo fa paura! Questa tartaruga bianca non l'avevamo vista! È albina! Deve spuntarsi un po' le unghie, eh! E questo cos'è? È un calamaro gigante! Questo acquario è infinito! Meduse! Sembrano finte per quanto sono belle! Ragazzi, alla ricerca di Dory! Vediamo se la trovate! Come è lì? Già trovata! Sì! Da qui si vede! Ce n'è Dory! È già finito il film! Ecco Dory! Guarda quante! È vero! È trovato Nemo! Alla ricerca di Nemo! Perché qui non ce ne sono altri! Sì! Eccolo qua! Questo è il papà! Quello è il papà! È fatta amicizia! E ora andiamo a vedere le creature notturne! Creature notturne e quindi è tutto buio! State attenti altrimenti ci perdiamo qua, eh! Qua ci sono i pipistrelli! Dormono a testa in giù! È troppo buio! Si fa fatica qui a far vedere qualcosa! Dobbiamo trovare il camaleonte! Non è facile! Eccolo! Eccolo lì! Ma è gigante! Io pensavo ce ne fosse uno piccolo! Guardalo com'è camaleontizzato! Sì! Sembrano una foglia! Sì! Si può passare su quel ponte! Vai Elissa! Oh! Vai Dani! Prova ponte superata! Che bel rospo! Sembra una statua! Guardate! Sì! Però è un bra falso! Non è un cobra! Un falso! Falso! Fake cobra! Si chiama false cobra! Un cobra non originale! Ciao! Aiuto! Buona immersione! Ciao mamma! Lì c'è una coda! Una piccola coda! Questo è il coccodrillo che ha mangiato la mano di Capitan Uncino! Ma questo posto non finisce più! È Tamatoa! È Tamatoa quello! Attenti! Attenti che vi morde! Mi raccomando eh! Questo è addomesticato! È domesticato! Tranquilli! Oh no! Attento Daniel! Aiuto! Vai Elissa! Difendilo! Non credo che posso farcela! Vorrà! Così dopo gli chiudi la bocca! Ehi! E la chiudi ancora di più sulla testa! Che roba strana! Ma questo che strano è! Però sembra veramente un cavallo! Cioè non lo so! Sembra una creatura aliena! Per finire un giretto nel negozio di souvenir nel quale ti fanno un mega sconto se vieni dalla visita all'acquario! In pratica se spendi 100 dirham che è la moneta di Dubai in realtà ne paghi solo 20! Quindi conviene magari fare qualche regalino, prendere qualche souvenir qui se uno ha fatto il giro all'acquario perché paga molto meno! Potete anche prendere dei lingotti d'oro da portare a casa! In realtà è sapone! Ti dico! Metti la mascherina Elissa! Ok! La mascherina! E usciamo ufficialmente! Uh! Finito! È stato bellissimo! Bello eh! È stato magnifico! Ok ragazzi per oggi questo video finisce qui! Ci vediamo al prossimo video con altre esperienze qui a Dubai! Ciao! 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 Grazie a tutti.